Tre punti fondamentali in chiave classifica per Lomenia che nello scontro diretto supera 2-0, la Synergy fa un passo in avanti davvero molto importante. In cronaca dopo sei minuti sugli sviluppi di un calcio d'angolo, clamorosa occasione sciuppata da Ferrari che calcia a lato da pochissimi passi. Alla ventisettesimo primo tiro di Lomenia con Gherardini, facile la presa di Galli. Al trentesimo contropiede gestito malissimo da Schirro che sceglie un improbabile assist piuttosto che la conclusione. Alla quarantaquattresimo Lomenia si porta a sorpresa in avvantaggio. Errore di Ferraro in centro area, ne approfitta Scavazza che si allarga e con un grande sinistro firma l'1-0. Nella ripresa al settimo errore di Chiaverini in disimpegno, lo stesso Chiaverini però poi si riscatta salvando su Schirro. Alla quattordicesimo calcio d'angolo per la Synergy, testa di Perrone, la palla termina a lato di un soffio. Al ventesimo bomba di Pontiroli dai 35 metri, Galli salva con un prodigioso innettervento. Al ventisettesimo arriva il 2-0 Lomenia, cross dalla destra di Perini, migliore in campo, Barbieri stoppa e di sinistro fulmina. Galli per il definitivo 2-0.